Immaginiamo, già che ci riesce così difficile conoscere la realtà, che cosa sarebbe successo se Shakespeare avesse avuto una sorella meravigliosamente dotata, chiamata Judith, diciamo. Molto probabilmente Shakespeare studiò, poiché sua madre era ricca, alla grammar school. Gli avranno insegnato il latino, Ovidio, Virgilio e Orazio e qualche elemento di grammatica e di logica. Era, come si sa, un ragazzo irrequieto, il quale cacciava di frodo i conigli e forse anche i daini. E dovette anche, prima di quanto avrebbe voluto, sposare una donna dei dintorni che gli diede un figlio un po' più presto del solito. Questa avventura lo spinse a cercare fortuna a Londra. Si interessava, a quanto pare, di teatro. Dicono che abbia cominciato facendo la guardia ai cavalli presso l'ingresso degli attori. Presto imparò a recitare, divenne un attore di successo e si trovò al centro della società contemporanea. Vedeva tutti, conosceva tutti, sfoggiava la sua arte sulla scena e suo spirito per strada e riuscì perfino a essere ricevuto nel palazzo della regina. Intanto sua sorella, così dotata, supponiamo, rimaneva in casa. Ella non era meno avventurosa, immaginativa e desiderosa di conoscere il mondo di quanto non lo fosse il suo fratello, ma non aveva studiato. Non aveva potuto imparare la grammatica e la logica e non diciamo leggere Orazio e Virgilio. A volte prendeva un libro, magari un libro di suo fratello, e leggeva qualche pagina. Ma poi arrivavano i suoi genitori e le dicevano di ramendare le calze o di fare attenzione all'umido in cucina e di non perdere tempo tra libri e carte. Questi ammonimenti saranno stati netti, benché affettuosi, poiché si trattava di persone agiate che sapevano come debbono vivere le donne e amavano la loro figlia. Anzi, è molto probabile che essa fosse la figlia diletta di suo padre. Forse riusciva a riempire di nascosto qualche pagina su nell'attico, ma poi aveva cura di nasconderle o di bruciarle. A ogni modo, non appena arrivata alla pubertà, ella era stata promessa al figlio di un vicino mercante di lane. La ragazza protestò che il matrimonio era per lei una cosa abominevole, sicché suo padre la picchiò con violenza. Poi, cambiando tono, la pregò di non fargli questo danno, questa vergogna di rifiutare il matrimonio. Le avrebbe regalato una bella collana oppure una bella gonna, diceva, con le lacrime agli occhi. Poteva forse disubbidirgli, poteva forse spezzargli il cuore. Eppure, la forza del suo talento la spinse al gesto inconsueto. Una sera d'estate, Judith fece fagotto con le sue cose, scese dalla finestra e prese la strada di Londra. Non aveva ancora 17 anni. Gli uccelli che cantavano sulle siepi non erano più musicali di lei e la possedeva come suo fratello la più viva fantasia, il più vivo senso della musica delle parole. Come lui, si sentiva attratta dal teatro. Busò alla porta degli attori, voleva recitare, disse. Gli uomini le risero in faccia. L'amministratore, un uomo grasso, dalle labbra spesse, proruppe in una gran risata. Disse qualcosa sui cani ballerini e sulle donne che volevano recitare. Nessuna donna, disse, poteva essere attrice. Egli accennò, invece, ve lo potete immaginare. Nessuno le avrebbe insegnato a recitare. D'altronde non poteva mangiare nelle taverne né girare per le strade a mezzanotte. Eppure il genio di Judith la spingeva verso la letteratura e la desiderava accibarsi abbondantemente della vita degli uomini e delle donne, studiare i loro costumi. Infine, poiché era molto giovane e di viso somigliava molto a Shakespeare, con gli stessi occhi grigi e la fronte curva, Nick Green, l'attore regista, ebbe pietà di lei. Judith si trovò incinta di questo signore e, pertanto, che può misurare il fervore e la violenza del cuore di un poeta quando questo si trova prigioniero e intrappolato nel corpo di una donna. Si uccise una notte d'inverno e venne sepolta a un incrocio, là dove ora si fermano gli autobus presso Elephant and Castle. Così più o meno sarebbe andata la storia, immagino, se ai tempi di Shakespeare una donna avesse avuto il genio di Shakespeare.